Potente! Io vi ho promesso perché tipo il video è già 1000 mi piace Cioè è già io mi avevo chiesto 1200 però l'ho caricato abbastanza tardi 1000 a me vanno benerrimo E ho deciso di caricarvi questo secondo video Cercando appunto di caricarlo il prima possibile Quindi cosa farò magari aprirò pochi pacchetti Poi magari mi registro mentre ne apro altri Però appunto oggi caricherò un video dove ne aprirò veramente pochi Come vedete qua ci sono già i pacchetti oro premium maxis drogo E noi ora ne andremo a aprire tipo un 7 abbastanza Cioè proprio da farlo durare 5 minuti Poi io continuerò e magari ve lo carico domani Ecco tutto si vedrà Allora primo pacchetto Non ci posso credere L'anno scorso lui era nel team of the year Marcelo l'anno scorso era nel team of the year Oh mio Ma che fail Allora ragazzi primo giocatore abbiamo trovato un team of the year fake Pensate che è magicata E se ecco si sta rimandando perché ho ancora questo cappello Questi occhiali perché non ho tagliato i capelli ragazzi Ma non preoccupatevi lo andrò a fare Cioè primo pacchetto marsello Che l'anno scorso era nel team of the year Madonna Secondo pacchetto O siamo stracarichi Infatti Si è visto Va bene Secondo pacchetto È andato male Però il primo ragazzi mi ha fatto venire Qua devo scartare ragazzi perché devo fare il più in fretta possibile Dato che non ho neanche tempo di tagliare Perché la facecam devo prima renderizzarla su con un programma Poi la rirenderizzo con Salvegas Comunque tornando a parlare del scorso di prima Mi stavo dicendo Che sembrava partito bene E poi secondo è andato male Ma stiamo tranquillissimi Perché noi dobbiamo alzare le mani al cielo Noi dobbiamo alzare le mani al cielo Le avete alzate E ora guardate un po' Dai oh L'impatto Andrei via No dai voglio una leggenda No voglio un team of the year Scusate Cioè proprio Sono fomentato ragazzi Sono fomentato Sono stra fomentato Dai allora Bisogna fare una cosa Ora voi siete sulla vostra sedia Fate un giro Tac E andiamo per un altro Anzi no io apro qua Madonna Lo apriamo No Non questo E è Io dico che non devo perdere tempo Poi sto a fare avanti e indietro Nei pacchetti Stefanino Madonna Madonna E questo E questo Ho visto una mano Ho visto una mano Non è vero Però noi l'abbiamo vista E questo è il pacchetto Dov'è Oh No Bello Un bel pacchetto Devo dire un bel pacchetto Non mi è piaciuto tanto E Bello Bel pacchetto Ma noi non demordiamo Ma noi andiamo avanti Scusate se continuo a guardare Il mio computer Però appunto Devo sapere a che punto sto Quanti minuti Ho già registrato Arturo Madonna Quando entra Arturo Quando serve qualcosa No come era Quando Non si trova niente Quando il gioco Si fa duro Adesso la cosa Nei pacchetti Ci pensa Arturo E via Pirlo Che Schifo Però Pirlo Dai Pirlo Potevi andare In primo Of the year Potevi fare I due gol In più Da meritarti Un bel team Of the year E ora ragazzi Fino ai 5 minuti Ci spariamo I pacchetti Da 15k Dato che questi Non sono più disponibili Mannaccia Magari Fa un qualità Sento Oddio Ce ne sono altri Via Via Non l'avevo visto Non li apriamo Non li apriamo Cioè Siamo infermabili Siamo infermabili Vai E andiamo Ora Vi voglio No Ma che schifo Dai Oh Ragazzi Vi devo chiedere una cosa Altro Il mio 3 Diciamo tutti Potente a pala E ora Troviamo qualcosa Io l'ho detto E io me lo sento Io me lo sento Quindi Ora andiamo indietro Io non dovevo perdere tempo Ma perché faccio queste cattate E andiamo indietro Andiamo avanti Poi Perché non è finita Si va qua Qua Ragazzi Battiamo le mani Vogliamo Vogliamo batterle Le battiamo Dai Questo È il mio penultimo pacchetto Mi sa Veloce Battiamole sempre più veloce Dai 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 Boom Chi No Van der Waart Va bene Abbiamo Pochi arrimi secondi No dai Facciamo 6 minuti Io voglio 6 minuti Sì sì E andiamo perne per 6 minuti Ragazzi Sto sudando Sto sudando La tensione è troppo alta Mannaggia Erano questi Ora ci spacchiamo a merda Con questi Proprio alla grande Un minuto Tutto così Anzi 30 secondi Perché Veramente Se no il video Non ve lo carico più E andiamo E andiamo E andiamo Abate Vabbè Vabbè Anche tu abate Dai Domani Un altro Se questo Raggiunge Mille Mi piace Però Per fargli raggiungere Mille Mi piace Dobbiamo fargli raggiungere 500 almeno stasera Quindi ragazzi Prima di andare a letto Noi dobbiamo guardare Questo che è schifo No Io non lo posso finire così Dai Non lo posso finire così Quindi Quindi L'ultimo pacchetto Col naso Di nose pack Ebbene sì Ebbene sì Non questo Eeeh Ancora Questo via Ops Ops Sono andati dentro Ops Basta È finita Madonna Questo Lo guardiamo E io intanto Anzi no Devo saltare E dobbiamo saltare E dobbiamo saltare Quindi Saltiamo No Ancora niente Che due bolle Vabbè ragazzi Comunque Detto questo Per il video Vi siamo presi avuto Primo mio pack opening Del team of dear Aspettate Tanteremi Quindi Detto questo Vi saluto Vi dico potente Appala e sento Il prossimo video Bolla Ciao